Michele Forino, avvocato, esperto in diritto condominiale, ha presentato il suo libro Pandemonio in condominio, che è una bellissima raccolta di episodi legati al mondo dei condomini. Pandemonio in condominio racconta la storia che Forino ha vissuto attraverso oltre 8000 assemblee di condominio e ha definito questo libro storie di vita esilarante. Cioè, avvocato, lei si è divertito? Bo, tantissimo, mi sono divertito perché ogni tanto bisogna smettere di fare cose serie e guardare un po' col sorriso alla vita. Senta, 7000-8000 assemblee, ma questo condominio è davvero così articolato? Sì, io ho sempre sentito un condominio dove si litigavano e basta, invece dalle sue pagine si dice che è anche una cosa allegra. È anche una cosa allegra perché nella stragrande maggioranza dei casi avvengono episodi belli, umani, le persone vivono anche in armonia, poi ci sono gli episodi estremi, ci sono gli episodi esagerati. È chiaro che ho cercato di concentrare in questo piccolo libro questi casi particolarmente, diciamolo pure, esilaranti. Senta, lei si è anche in parte divertito e in parte avrà anche avuto problemi su questi condomini, perché sono personaggi un po' strani. Qual è l'identikit del condomino oggi? Devo dire che abbiamo un condomino tipo dotato di grande attenzione. I condomini genovesi prestano attenzione al proprio patrimonio, quindi con grande cura e cautela approfondiscono e si informano. Dopodiché però, come c'è avvocato e avvocato, giudice o giudice, giornalista o giornalista, c'è condomino e condomino, per cui troviamo veramente di tutto e il contrario di tutto. Senta avvocato, mi racconti un episodio curioso. Io per esempio lo leggevo il libro e mi ha incuriosito quella donna che ha mangiato una pagina di contatto. Sì, è successo un episodio forse al limite dell'incredibile, però cos'è avvenuto? E' avvenuto che questa signora era così convinta di essere riuscita finalmente a sostituire l'amministratore perché lo odiava, ma lo odiava perché gli era antipatico, era riuscita a raccogliere le deleghe, aveva in tasca il numero per poter ottenere la sostituzione con la nomina di un nuovo, però all'ultimo minuto una persona che le aveva dato la delega gliela va a revocare. A quel punto si manifesta, si concretizza la sconfitta durante questa assemblea condominiale, ma doveva reagire la signora, non poteva arrendersi. A quel punto non aveva altro che una reazione assolutamente inconsulta. Si impossessò del registro dei verbali, strappò la pagina dove era certificata la sua sconfitta, l'ha strappata, l'ha mangiata e se l'ha anche ingoiata. Molto interessante. Senta, lei ha oltre 25 anni di attività. Purtroppo sì. Ascolti, è cambiato molto il condomino rispetto a 25 anni fa? Sì, è cambiato moltissimo perché 25 anni fa non vi era attenzione al dato economico, i costi condominali erano molto ridotti, per cui non è che si chiudeva un occhio, si chiudevano due occhi. Oggi invece anche la difficoltà della situazione economica porta tutti a prestare attenzione anche a somme e a debiti condominali molto ridotti, per cui tutto è diventato più difficile, direi, a partire da questo ragionamento di ordine economico. Senta, mi dica la verità, quanto c'è di verità in questo libro? Purtroppo, io ho l'impressione, lei è stato durante la conferenza stampa un ottimo affabulatore, io ho l'impressione che sia tutto inventato, è così. È una bellissima soddisfazione sentire questo, sa perché? Perché se mi fossi inventato veramente queste storie sarei un genio della letteratura, in realtà non sono un genio. Non è un... No, ho semplicemente raccontato quello che ho visto percepito, magari le letture fatte in più di 60 anni di vita, mi ha portato ad avere una certa facilità nell'articolazione, però magari mi piacerebbe molto essere riuscita ad inventare storie di questo tipo, ma drammaticamente purtroppo non è così. Senta, durante la chiacchierata ho sentito parlare anche di rapporti così fra condominio e politica. Sì. Le chiedo, secondo lei Draghi è un ottimo amministratore condominiale, visto che il nostro Parlamento è un condominio fra i più disastrati del mondo? A mio parere sì, è inserito in quella tipologia di amministratore, perché come ci sono i tipi umani nell'ambito condominiale, ci sono anche i tipi degli amministratori condominiali. È il tipico amministratore condominiale notaio, molto garbato, molto preparato, molto elegante, che preferisce a mio giudizio fare rispetto al parlare. Senta, per chiudere, lei è un condomino? Sono anche condomino, ma dove sono condomino non so niente, non vedo niente e non dico niente. Non è un autogestito. Assolutamente no, ignoro completamente, perché è l'unica tattica per sopravvivere in condominio. Senti, aspettiamo altri 25 anni per raccontare da oggi a fra 25 anni un altro libro? Ma devo dire la verità, è inutile che lo giri, e poi dovrei dare una notizia, ne sto scrivendo un altro. Quindi posso dirvi, non so nemmeno come sarà, perché lo sto scrivendo senza nemmeno sapere cosa sto scrivendo, però arriverà. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a tutti.